Il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind, durante una conferenza stampa tenuta all'Aquila, ha posto all'attenzione su diverse questioni riguardanti i diritti dei dipendenti e dei pazienti. Primo problema, le lunghe liste di attesa per una prima visita in diverse discipline sono già chiuse le prenotazioni del 2021, almeno in cinque dei reparti. Il concorso per infermieri, si legge in un comunicato, indetto con deliberazione numero 498 del 4 marzo 2020, non è stato mai pubblicato in casetta ufficiale e non si sa che fine abbia fatto. Assunzione degli operatori sociosanitari sono privilegiate le agenzie di somministrazione lavoro, infatti non è stata indetta nessun concorso o avviso a tempo determinato. E ancora prosegue il comunicato, la progressione economica di fascia, ancora non hanno dato atto al pagamento del personale aventi diritto per mezzo della deliberazione 2363. del 30 dicembre del 2020. Oltretutto a questa deliberazione ci sono dipendenti che hanno fatto richieste di vedere le loro posizioni, quando la valutazione dei titoli non è stata fatta come si deve ritrovandosi fuori dell'agrodatorio degli aventi diritto. Noi parliamo in generale di tutti i diritti degli infermiere, ma soprattutto anche dei cittadini per quanto riguarda le liste di attesa molto lunghi, addirittura chiusi per tutto il 2021, non circa 5-6 riparti. Questi sono già chiuse le prenotazioni, non si può accedere a una prenotazione per le persone che hanno prima visita, che stanno abbastanza male soffrendo in casa da sole con la pandemia. I punti sono tanti in tutta l'Aso dell'Aquila, però andiamo a vedere soprattutto a quello che è i sacrifici che hanno fatti gli infermieri, anche i complimenti che hanno ricevuto, ma in pratica stanno ancora aspettando i loro diritti semplici e quelle tipo le progressioni economiche mai bagate, anche se deliberate nel dicembre 2020. Il concorso per gli infermieri che non è mai stato espletato, che non è mai andato in neanche in gazzetta ufficiale, non sappiamo che fine è fatta a quel concorso. Le assunzioni che vanno anche per gli OSS, che sono sempre privilegiate le agenzie in generale e quindi non sappiamo come mai anche questo viene utilizzato nonostante le risorse, il mancato rispetto per le nostre risorse. Anche per esempio gli incentivi del 2019 e quindi tutto questo è venuto a mancare in quanto la gestione è presa solo dalla pandemia e non sta facendo nulla altro.